Addio al contante e al biglietto cartaceo. Sempre più viaggiatori scelgono la via del contactless anche sulle linee ferroviarie Arezzo-Sinalunga-Estia. È quanto emerge dai primi dati del trasporto ferroviario toscano del gruppo LFI ad un mese dall'avvio di Pay&Go, il servizio di bigliettazione con pagamento online. L'acquisto dei titoli di viaggio tramite questo sistema è stato subito molto apprezzato dall'utenza anche perché migliora e semplifica l'esperienza di viaggio senza alcun costo aggiuntivo per chi ne usufruisce. Pochi secondi appoggiando la carta di credito sul dispositivo presente in tutte le stazioni si potrà salire a bordo senza fare la fila e senza attendere la stampa del biglietto cartaceo. Un vantaggio per gli utenti ma anche per l'ambiente. Vita dura anche per i furbetti. Ad oggi la percentuale di persone che viaggia senza ticket è di circa il 7%. Vorremmo arrivare ancora a percentuali migliori, spiega Maurizio Seri, presidente di LFI. Stiamo valutando anche l'inserimento del biglietto a validità giornaliera. Raggiungere anche questo obiettivo ci permetterebbe di recuperare risorse significative da investire per offrire alla nostra clientela servizi sempre migliori e di qualità.